Musica Buondi a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia che ho deciso di chiamare Maglia Sunny Ora, prima di parlarvi del filato, vi dico già che questa maglia è nata dopo una diretta che abbiamo fatto sul gruppo Facebook La Libertà di Uncidentare e Sfruzzare dove, mi avvicino per farvela dire meglio, avevamo realizzato questa mattonella per poter rivestire la mini bag che dopo vi mostrerò per chi appunto non fa parte del gruppo Facebook e perché non ha Facebook Quando abbiamo realizzato quindi questa mini bag ho chiesto se desiderate fare una maglia con la stessa lavorazione in modo da poter abbinare maglia e mini bag e mi avete risposto in maniera positiva al sondaggio e quindi eccomi qui a farvi vedere appunto come realizzare una maglia utilizzando appunto questa mattonella molto molto semplice Per quanto riguarda i filati, allora io ho utilizzato due filati che sono il Tenerife dell'Adrian Wool e il Natura Medium della DMC Questo è 100% cotone, mentre questo è un 90% cotone e un 10% viscosa Dalla telecamera non si vede, ma questo ha all'interno un piccolo filo di Lux E infatti, non so se della telecamera per via della luce si vede La parte centrale della maglia e la parte sotto è appunto realizzata con il Tenerife Quindi luccica un po' Mentre le mattonelle, l'esterno, quindi gli ultimi giri Sono fatti appunto con il Medium Questo perché volevo dare più movimento possibile a questa maglia Per renderla più particolare possibile Anche se in realtà è semplicissima lavorarla Perché sono due rettangoli che vanno uniti insieme E poi con la stessa lavorazione si va a fare la parte di sotto Per quanto riguarda il quantitativo Allora, innanzitutto io ho utilizzato sempre l'uncinetto del 4,5 E ho utilizzato 3 gomitoli, quindi 150 grammi del Tenerife E 4 gomitoli del Natura Medium, quindi 200 grammi Per un totale quindi di 350 grammi Ora, per le taglie più grandi Per una taglia M io vi consiglio di utilizzare 200 grammi del Tenerife Quindi non 3 ma 4 gomitoli E 250 grammi del Natura Medium, quindi 5 gomitoli Mentre se siete una taglia L vi consiglio di prendere 300 grammi del Natura Medium E 250 grammi, quindi comunque solo 5 gomitoli Anzi no, facciamo anche in quel caso 6 gomitoli No, 250 grammi dei gomitoli, vanno più che bene Del Tenerife, perché comunque sono 5 gomitoli Voglio farvi vedere altri tipi di combinazioni colori che potete fare Possiamo optare sempre un altro tono sul tono Quindi facciamo questo marrone Guardate che bello Quindi parte centrale, parte di sotto con questo La parte più esterna della mattonella con questo Oppure possiamo decidere di fare due colori che si staccano Quindi al centro utilizzare l'arancione e il rosso In realtà è un mattone, è come lavorazione esterna Un'altra combinazione che potete fare staccando i colori È il Tenerife bianco al centro e sotto E per allargare la vostra mattonella Utilizzare il grigio del Natura Medium Mi piace molto come stacca Anche perché bianco e grigio sono comunque dei colori molto utilizzati in estate Quindi detto ciò, adesso voglio mostrarvi anche come è fatta la mini bag Che abbiamo realizzato insieme durante la diretta di Facebook Eccola qui Questa è stata molto semplice perché la mattonella è in versione mini E per realizzarla ho utilizzato un solo gomitolo del filato linkoton Però vi dico già che il colore che ho usato io, questo qui, è terminato Però ci sono altri tre colori presenti E voglio mostrare gli altri tre colori che potete trovare Che sono questo qui, molto carino Altrimenti c'è questo che è quello più abbinabile Ed eccolo qui Oppure c'è un altro che gli assomiglia molto No no, ho rimesso un altro filato Quindi no Il blu purtroppo è anche terminato Quindi su cinque colori che avevo a disposizione ne sono rimasti solo tre Le mini bag invece, anche questo, vi metterò il link E vedete, questa è la mini bag appunto da abbinare al vostro outfit Molto molto carino Lo adoro tantissimo E siccome questo colore è terminato Io vi consiglio, se volete abbinare borsa alla maglia Utilizzando i miei stessi colori Il colore 817 Mentre per quanto riguarda, se volete E che va bene anche per chi vuole realizzare Quello con il marrone, quindi tono su tono Per quanto riguarda di nuovo la nostra Aspetta qui la borsa Ok La nostra maglia Quindi vi dicevo, sono due mattonelle Che vengono lavorate separatamente E poi cucite all'altezza delle spalle Ma soprattutto mi piace tantissimo Come sono andata a unirla E qui lateralmente Che si crea questa apertura Quindi è una maglia Che anche se abbiamo utilizzato un filato doppio È molto 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 estiva Perché comunque l'aria passa tranquillamente E poi sono andata a rifinire la parte sotto della maglia Allungandola Però ho cambiato leggermente la lavorazione Passando dal gruppo di 7 maglie a 5 maglie Ma non vi preoccupate Nel video vi spiego tutto Detto ciò Ho parlato tantissimo oggi Spero che anche questa creazione vi piaccia Che desiate realizzarla E se è così Poi come sempre Mandatemi le vostre foto O sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa O sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e sperozzare Oppure potete taggarmi su Instagram Dove mi troverete come Elsa faccio E noi come sempre Ci vediamo un po' al prossimo video tutorial Per realizzare la nostra maglia Io utilizzerò insieme Lavorando due filati Non li lavorerò contemporaneamente Ma comunque insieme I due filati sono Il filato dell'Adriafile linea Teneife E il Natural Medium Dmc I colori che ho scelto io Sono questi del giallo Eccoli qui Però come potete vedere Qui vi ho fatto altre combinazioni O tono su tono O altrimenti per staccare Che a me piace di più Naturalmente potete fare altre combinazioni Usando sempre i due filati Inizierò a lavorare con il filato Dell'Adriafile linea Teneife E l'uncinetto del 4 e mezzo Andremo a realizzare due mattonelle Due quindi due granny Che poi andremo a cucire insieme Io mi Faccio il mio anello magico E andiamo a fare il nostro giro base E andiamo a realizzare 3 catenelle Che sono sta prima maglia alta Una catenella di separazione Prendo il filo rientro E vado a fare un'altra maglia alta Catenella di separazione E rientro e vado a fare un'altra maglia alta Devo fare un totale di 8 maglie alte Separate da una catenella Quindi due Questa è la mia terza maglia alta Catenella Rientro quarta maglia alta Catenella Quinta maglia alta Catenella Sesta maglia alta Catenella Settima maglia alta Catenella Ottava maglia alta Catenella Chiudo il mio anello magico Entro nella terza catenella Che qui leva la mia prima maglia alta E vado a fare una maglia Bassissima Adesso andiamo a fare un altro giro base Dopo questo giro base Andiamo a fare i due giri Che vanno sempre ripetuti Entro dentro l'archetto di una catenella E vado a fare una maglia bassa Prendo il filo Vado nell'archetto successivo E vado a fare sette maglie alte Quindi una Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Archetto successivo Maglia bassa Archetto successivo Di nuovo sette maglie alte Una Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Archetto successivo Maglia bassa Di nuovo archetto successivo Andiamo a fare sette maglie alte Una Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Archetto successivo Maglia bassa Archetto successivo Che è l'ultimo Che abbiamo Di nuovo andiamo a fare sette maglie alte Quindi una Due Tre Quattro Cinque Sei Sette E chiudiamo il nostro secondo giro base andando a fare una maglia bassissima dove avevamo la maglia Bassa Ora il giro che andiamo a fare è il nostro primo giro e iniziamo andiamo a fare Sare sposto un po questi perché oppure di colpirle ogni tanto con e andiamo a fare Tre catenelle che sono sta prima maglia alta Catenella di separazione prendiamo il filo rientriamo un'altra maglia alta 5 catenelle 5 catenelle 1 2 3 4 5 saltiamo tutte le maglie alte andiamo direttamente nella maglia bassa e andiamo a fare una maglia alta Catenella di separazione rientro un'altra maglia alta 5 e 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo rientro sempre la stessa maglia bassa e vado a fare un'altra maglia alta Catenella di separazione rientro un'altra maglia alta Noi in questo momento stiamo realizzando i nostri angoli 5 catenelle 1 2 3 4 5 salto Le maglie alte vado dove ho la maglia bassa e vado a realizzare una maglia alta Catenella di separazione rientro un'altra maglia alta 3 catenelle rientro maglia alta Catenella di separazione rientro maglia alta 5 catenelle 1 2 3 4 5 salto le maglie alte vado direttamente dove la maglia bassa e di nuovo maglia alta Catenella rientro maglia alta 3 catenelle 1 2 3 rientro maglia alta Catenella di separazione rientro maglia alta 5 catenelle 1 2 3 4 5 Devo terminare il mio giro rientro dove avevo la prima maglia bassa e vado a fare maglia alta Catenella rientro maglia alta E per chiudere il giro prendo il filo entro nella terza catenella Prendo il filo ed esco prendo il filo ed esco da tutti i fili sull'uncinetto Questo mi serve per evitare di iniziare a fare poi le maglie basse e quindi che si vede all'inizio e la fine di ogni giro Quindi questo è stato il primo giro E adesso andiamo a fare il nostro secondo giro quindi rientriamo dentro dove abbiamo appena chiuso il giro e facciamo una maglia bassa Prendiamo il filo andiamo nell'archetto di una catenella andiamo a realizzare 7 maglie alte Una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette Andiamo dove abbiamo la nostra quarta maglia alta quindi qua abbiamo le catenelle qui abbiamo le sette maglie alte una, due, tre, quattro, entriamo nella quarta e nemmeno a fare una maglia bassa Prendo il filo vado direttamente nell'archetto di una catenella e di nuovo da fare sette maglie alte una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette e sette vado nell'archetto di 3 catenelle realizzo una maglia bassa e si ricomincia a fare il lato quindi andiamo dove abbiamo le nostre ammai la nostra catenella e andiamo a fare sette maglie alte una due tre quattro cinque 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 e sette andiamo noi abbiamo la quarta delle nostre sette maglie alte una due tre e quattro e andiamo a fare una maglia bassa di nuovo prendiamo il filo andiamo nell'archetto di una catenella andiamo a fare sette maglie alte una due tre quattro cinque sei e sette archetto di 3 catenelle ne ho fare la maglia bassa e di nuovo ci troviamo lo abbiamo la pillato quindi di nuovo archetto di una catenella andiamo a fare nostre sette maglie alte quindi una 2 3 4 5 6 7 archetto andiamo nel dove abbiamo la quarta maglia alta una due tre e quattro e ne a fare una maglia bassa di nuovo archetto di una catenella 7 maglie alte una due tre quattro cinque sei sette archetto andiamo a fare una maglia bassa e di nuovo andiamo nell'archetto di una catenella andiamo a fare sette maglie alte 2 3 4 5 6 e 7 contiamo dove abbiamo la quarta maglia alta una due tre e quattro entriamo nella quarta ne ho fa la nostra maglia bassa stiamo terminando i nostri secondo giro andiamo noi abbiamo l'archetto di una catenella e facciamo ultime sette maglie alte quindi una due tre quattro cinque sei e sette andiamo dove abbiamo la maglia bassa andiamo a fare una maglia bassissima adesso si ricomincia dal primo giro ve lo faccio vedere perché comunque vedete che gli angoli si sono allargate quindi il lato diventa più grande iniziamo sempre a facendo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta catenella di separazione rientro e vado a fare un'altra maglia alta 5 catenelle 1 2 3 4 5 vado direttamente dove ho la maglia bassa questa è la maglia bassa del lato quindi non del lato e vado a fare solamente una maglia alta catenella rientro un'altra maglia alta 5 catenelle vado nell'angolo successivo e vado nella maglia bassa successiva e questo è il mio angolo quindi vado a fare maglia alta catenella rientro maglia alta 3 catenelle rientro maglia alta catenella di separazione rientro maglia alta 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 vado dove la maglia bassa questa volta del lato e quindi vado solamente a fare maglia alta catenella catenella rientro maglia alta 5 catenelle e mi ritrovo quindi nell'angolo e vado a fare maglia alta catenella rientro maglia alta 3 catenelle rientro maglia alta 5 catenelle vado dove la maglia bassa del lato e vado a fare maglia alta e vado a fare maglia alta catenella rientro maglia alta 5 catenelle mi ritrovo nell'angolo quindi di nuovo maglia alta catenella rientro maglia alta 3 catenella rientro maglia alta 5 catenelle vado nel lato mai alta catenella maglia alta 5 catenelle vado per chiudere il mio giro quindi entro nella prima maglia bassa e vado a fare maglia alta catenella catenella rientro maglia alta prendo il filo entro nella terza catenella prendo il filo d'esco prendo il filo ed esco da tutti e tre e si ricomincia da capo andando a fare nuovo la maglia bassa entriamo nell'archetto 7 magliette 2 3 3 4 5 6 7 vado dove ho la quarta delle mie maglie basse vado a fare una maglia delle mie maglie alte vado a fare una maglia bassa sono nell'angolo e vado a fare sette maglie alte nell'archetto di una catenella sono nel lato scusate 3 4 5 6 e 7 1 2 3 4 entro nella quarta e vado a fare la maglia bassa e poi di nuovo sette maglie alte quindi questi sono i giri che dobbiamo sempre andare a fare adesso vi spiego un attimo ancora come ho fatto già una mattonella granny quindi vi spiego come sono andata a utilizzare i due filati allora eccoci qua questa è la mia mattonella io che ho fatto il centro ho utilizzato tutto il gomitolo del mio tenerife quindi ho usato tutto il gomitolo per intero infatti vedete si vede la differenza perché il tenerife ha un po di questo striscia di lurex mentre il natura medium è senza è un cotone normale quindi ho utilizzato al centro il tenerife e ai lati invece il natura medium al centro io ho utilizzato tutto il gomitolo ai lati ho usato due comitoli del medium e vi dico già che la mia mattonella mi è venuta larga circa 30 38 centimetri naturalmente per una taglia m io vi consiglio di andare a fare almeno 41 centimetri quindi rispetto a me diciamo e dovreste fare almeno un altro motivo quindi altri due giri mentre una taglia l deve andare a meno fare altri quattro giri naturalmente potete usare un solo filato invece che tutti e due io ho preferito appunto a questa diversità in modo che al centro è più morbido perché il tenerife più morbido rispetto alla natura medium ma volevo anche rigidità per quando andavo a cucire i miei rettangoli scusatemi che le mie mattonelle granny quindi diciamo che se andiamo a contare comunque io ho fatto 12345 a motivi con il tenerife 123 motivi invece con il natura cotton e adesso andrò a fare e natura medium e adesso andrò a fare un altro in un altro quadrato uguale e poi vi farò vedere come sono andata a cucire l'unica cosa io l'ultimo giro l'ho fatto con la maglia alta e le 5 catenelle in modo tale appunto da avere più facile la cucitura laterale un'altra cosa che vi devo dire è naturalmente quando andate a fare il giro quindi vi riprendo l'altra mattonella noterete che nei lati aumentano le maglie basse vedete quindi abbiamo due quindi nel giro successivo qui andremo a fare soltanto un ventaglio quindi maglia alta catena maglia alta qui un altro ventaglio maglia alta catena maglia alta e di nuovo qui invece andremo a lavorare il nostro angolo che vi ricordo invece che ha il ventaglio con una catenella 3 catenelle di il ventaglio quindi questo poi sarà il nostro risultato bene io adesso andrò a fare come vi ho detto anche l'altra mattonella e poi vi farò vedere quanto sono andata a cucinare lì sulle spalle e lateralmente e poi continueremo a fare qualche altro giro sotto sono ancora indecisa se poi riprendere il tenerife o continuare con in natura cotton deciderò una volta cucita e rindossata la mia maglia comunque naturalmente più larga la fate più dovete pensare che qui dovete andare a cucire un po di più appunto per le spalle allora ho terminato i miei due rettangoli e sono poi andata a cucire assieme io cuscito lasciando qui per lo scalfo in alto 14 centimetri di apertura che il mio scalfo quindi poi sono andata a cucire per tutti i restanti centimetri stessa cosa da quest'altro lato ho lasciato scoperti 14 centimetri sono andata a cucire per tutto il bordo sotto invece qui in alto per le spalle sono andata a cucire vi dico subito per circa 7 centimetri ossia facendo combaciare due dei miei ventagli sia da questa parte che da quest'altra parte adesso continuerò la lavorazione sotto del mio stesso punto però la lavorazione adesso cambierà un po perché lavoriamo in chiusura allora io ricomincerò a lavorare lo stesso motivo sotto solo che devo andare a stringere quindi non farò più 7 maglie alte ma ne farò 5 e lo userò sempre questa volta l'uncinetto di 4 e mezzo quindi non cambia un 100 ma vado da diminuire le maglie alte e tornerò a lavorare il tenerife quindi questo dorato quindi nella parte sotto torniamo a lavorare lo stesso punto vi dico una cosa io naturalmente quindi dove ho la maglia alla catenella del ventaglio vado a fare le mie cinque maglie alte e vado a fare sempre 5 catenelle non ne vado a fare tre perché poi la lavorazione veramente si stringe troppo inizierò a lavorare qui dal dove ho la cucitura in modo tale appunto da avere qua la maglia bassa ed iniziare con le cinque maglie alte altra cosa noi quando torneremo poi a fare questo giro sia il ventaglio con le maglie alte non dobbiamo andare a fare più il nostro angolo quindi andremo a fare dove abbiamo ogni maglia bassa il nostro ventaglio quindi non dobbiamo andare a fare più gli angoli ma andremo sempre a fare il ventaglio quindi due maglie alte separate da una catenella non dobbiamo fare più le 3 catenelle di separazione tra i due ventali degli angoli quindi adesso lavorerò come vi ho detto i due giri però li lavorerò senza fare aumenti e andrò anche a stringere lavorazione perché come vedete sotto si è allargato molto ea me ho bisogno di stringere quindi invece di 5 di 7 ma gli altri ne andrò a fare 5 allora ho rifatto i diversi tentativi e alla fine quando ho fatto il giro di ventagli con le catenelle ho fatto 3 catenelle perché con 5 mi si allargava di nuovo la lavorazione ora un'altra cosa che vi voglio dire quando sono tornata a fare il lacchetto con le mie 5 maglie alte voglio fare vedere come vi ho come sto facendo per fare in modo appunto di non fare la chiusura e poi dover fare di nuovo delle delle maglie bassissime quindi che si sposti la chiusura io nel primo archetto finito con mai facendo la maglia bassissima quindi sono andata nell'archetto di 3 catenelle di una catenella e sono andata a fare 3 maglie alte perché io non totale di 5 adesso ho fatto la maglia bassa quindi devo terminare il giro entro dentro vado a fare 2 maglie alte naturalmente per chi come meno non sta facendo 5 maglie alte ma ne sta facendo 7 dove a fare 4 deve fare quattro maglie alte poi normalmente va a lavorare le 7 maglie alte come io ho lavorato normalmente le mie 5 maglie alte e chiuderà non facendo 2 maglie alte ma tre questo solo per chi è andata a fare lo stesso numero di maglie alte quindi non andata a diminuire quindi adesso ho fatto queste due maglie alte termino facendo una maglia bassissima nella quarta ma nella prima maglia bar alta che equivaleva alla mia in questo caso delle 5 equivale alla mia terza maglia alta quindi mi trovo già al centro e posso ricominciare a fare la maglia bassa quindi vado a fare allora io sto facendo quindi la lavorazione sotto vi dico che poi sono andata a sfilare il giro della maglia alte con i ventagli quindi ventagli con 5 catenelle e ne sono andata a fare solo 3 perché altrimenti la lavorazione mi si allargava di nuovo quindi avendo fatto cinque maglie alte va bene fare 3 catenelle di separazione tra i ventagli ora io sto per terminare il di nuovo giro con le maglie alte però voglio farvi vedere una cosa quello che ho deciso di fare per non andare a fare di nuovo le maglie bassissime che mi spostano la lavorazione di inizio e fine giro ho iniziato a fare il giro con i miei gruppi di cinque maglie alte nel primo gruppo nel primo ventaglio ne ho fatte solo 3 naturalmente chi ha lasciato le sette maglie alte ne va a fare 4 quindi poi si lavorano a mente maglia bassa 5 maglie alte maglia bassa 5 maglie bar alte e per terminare la lavorazione io qui ho fatto la mia maglia bassa quindi vado nell'archetto e vado a fare le mie due maglie alte in modo tale da averne 5 per chi ne ha fatte ancora 7 deve farne 3 andiamo a fare una maglia bassissima nella nella prima maglia alta e chiudiamo la lavorazione ora noi dovremo andare a fare delle maglie bassissime può iniziare di nuovo fare il nostro ventaglio ma così sposteremo la nostra lavorazione ed è una cosa che non voglio fare e quindi scusatemi non sento rumore strano a quindi vado a fare in questa maniera vado già a fare una catenelle le mie catenelle quindi una due io ne dovrei fare tre quindi una già l'ho fatta e vado direttamente qui e vado a fare la mia maglia alta catenella rientro maglia alta mi raccomando chi invece deve fare 5 catenelle ne va a fare 3 di catenelle e vado poi a lavorare normalmente quindi 3 catenelle vado doveva la maglia bassa e vado a fare maglia alta catenella rientro maglia alta e di nuovo 3 catenelle quindi continuo così per tutto il giro vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi di nuovo il successivo ripeto io sto facendo questo per evitare di fare tutte quelle maglie bassissime che ci spostano la chiusura e l'inizio di un giro e che quindi poi sono un po brutte da vedere quindi adesso continuo a lavorare il giro vi farò vedere appunto come terminarlo e come poi ricominciare il successivo allora sono arrivata dove ho all'inizio del giro quindi ho fatto il ventaglio vado a fare una catenella e vado direttamente nella seconda catenelle vado a fare una maglia bassissima ora io devo riniziare con la maglia bassa quindi rientro dentro e vado a fare la mia maglia bassa scusatemi voglio che si veda bene rientro dentro la maglia alta iniziale vado a fare la maglia bassa e quindi poi vado a lavorare normalmente i miei le mie 5 maglie alte quindi vedete questo ci serve appunto per evitare che si veda troppo la cucitura che va lateralmente ma che resta in questa maniera sempre di lato io continuerò a fare questi due g naturalmente vi dirò quante volte l'ho ripetuti e quanto quindi è venuta lunga la fine la mia maglia allora ho terminato la parte di sotto ho ripetuto i due giri per quattro volte mentre poi nella parte di sopra ho ripetuto il giro soltanto una volta ho fatto solo i gruppi di 5 magliette non ne ho fatto 7 in modo tale da non allargare la lavorazione ma tenere la bella stretta è utilizzato sempre il filato tenerife quindi non farò alcun tipo di bordino invece qui mi piace che qui invece sia avvenuto in questa maniera però se volete potete fare il bordino anche intorno alle maniche e quindi anche questa maglia è terminata